Ciao a tutti! Vai ragazzi, andiamo! Detroit, Utah. E ritorna il comendone su NBA. Monroe. Benissimo, tre pari ragazzi, appena cominciata la partita. Vai comendone, vogliamo una gran prestazione, arriva il primo assist, arriva il primo assist. Siva. Stucchi. Villanueva. Vai comendone, vai comendone. Molto bene. Eh, ma va a cagare. Mike Entra ai liberi. Buono. Dobbiamo tornare assolutamente alla vittoria ragazzi, perché la conference, c'è l'ottavo posto, non ci garantisce i playoff, ma di pochissimo. Smith. Vai comendone, si invole in un contropiede. Cumendiano, entrata cumendiana. Primi due punti. La meraviglia italiana, cumenda, veneziano. Buonissimo, vai che andiamo. Villops, chance, Villops, ex. Vai comendone. Ragiona, ragiona, veneziano, ragiona. Vai che c'è il play di Utah, e l'obiettivo è portarla ai playoff cast, e poi ce ne andiamo. Bellissimo, che lavoro di veneziano, 8 a 0. Eh, Utah voglia la vittoria, ne ha vinte una nelle ultime cinque purtroppo. Uh, per poco, arrivava anche la palla recuperata. Stucchi. Monro. Monro, Marilyn Monrofi. Ok, Monro. Farlo di Cantor, Clark Cantor. Monro, due su due. Bellops. Chance, i Bellops. Buono, buon passaggio, infatti. Buono, buono. Dai che ci siamo, 13-5. Dai, Fio, e dai. Siva. Nananana, nananana, smith. Buona difesa sul tiro, ma comunque i due punti sono arrivati per smith. Bellissimo assist, grandissimo veneziano, grandissimo candidato al rookie of the year e al sesto uomo dell'anno, ragazzi. Sarebbe bello vincere tutti e due. Nananana, 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 nananana. Vai, come andò. Cantor. Ma che cazzo di passaggio è? Madonna, il solito Cantor. Il solito Cantor. Il solito Cantor. Il coglione. Il coglione Cantor. Vaffanbrodo. Difense. Bravissimo veneziano, sfrutta il blocco e va a segno. Ultima partita ha 22 punti e 6 assist. Nella sconfitta di 3 contro San Antonio. Questa la dobbiamo vincere assolutamente, ragazzi. Villanueva, solo rete. Il nostro obiettivo è arrivare almeno in playoff. Cosa veramente... Cioè, sulla carta non siamo per niente favoriti, ma noi ci proviamo. Ancora veneziano. È attentato una magia, ma arriva il fallo. Grazie come. Due su due dalla linea della carità. Molto bene veneziano. Otto punti, due assist. Ottimo inizio per il talentissimo veneziano. Bella nuova. Stuki. Favors. Bellissimo, mamma mia. Che lavoro ancora di veneziano. Che lavoro di veneziano che ha detto anche all'allenatore che è vicinissimo al ruolo di titolare. Che può rubare il posto a Chance e a Belops. Vedremo. Villanueva in faccia. Favors. Vai, Kume. Sfrutta il blocco, Kume. Bravissimo. Favors. La mette ancora. Ma veneziano, ragazzi. Cosa combina veneziano? L'illusionista. Il nuovo Steve Nash, ragazzi. Il nuovo Steve Nash. Sì, miglioriamo in difesa. Villanueva. Elvila. Elvila. E la regala a Chance e a Belops. Da tre. Peccato. Ma arriva comunque il canestro. Eh, ragazzi. Utah sta giocando veramente. È un basket perfetto fino a questo momento. Finalmente. Smith. Villanueva. Tanti errori per Detroit. Eh, adesso arriva il punto. Vai, Kume. Ho citato i canestri sotto canestro, ragazzi. Non è ancora arrivata l'occasione da fuori. Ricordo che siamo a livello professionista, ragazzi. Quindi livello non semplice. È vero che è il secondo livello, ma... Questo gioco, ragazzi, che è praticamente un simulatore di basket. Anche matricola è difficile. Vai, Kume. Vai, Kume. Un bel lavoro c'è bisogno, Kume. Uh, che stoppone. Che stoppone, ragazzi. Che stoppone. Vediamo. Le ultime dici partite. Il migliore assist man dei ruchi, eh, il comendone. Anche la miglior media punti. Ok, il Kume va in riposo. Rientra nel secondo quarto. 3-4 Utah. 2-6 Detroit. Molto, molto bene. Stacchi da solo. Brutto. Brutto, questo. Carter. Canter. Bravo, Kume. Molto bene. 8-3 dal campo, ragazzi. 8-3 dal campo, ragazzi. Per il talentissimo veneziano. Stuke. Mi piace Stuke. Vai, comendone. Vai, comendone. Bellissima, mamma mia, mamma mia, ragazzi. Che azione aiuta. Quando entra il comendone è così, ragazzi. Quando entra il comendone è così. L'ultima partita a 22 punti a San Antonio. Possiamo tranquillamente superare i 22 oggi. Stoppata veneziana. Sicuramente Detroit non è forte come San Antonio, però. No, brutto errore qua di Highward. Da solo Villanueva. Meno male, meno male. Bellissimo, mamma mia. Jam session. Come indiana. Morro. Villanueva. Sciva. Uuuuh. Kanter. Bravissimo, veneziano. Arriva il fallo, arriva il fallo. Bravo, come, bravo, come. Buon libero. Buon libero. 16 punti, ragazzi. E 5 assist. E siamo a 8 minuti dal secondo quarto, ragazzi. Partita sontuosa per questo momento per veneziano. Ah, lo stoppatona di Gobert. Oh, Gobert. Dai, Fioi. Uuuuh. Cosa ha tirato fuori qua, Bellops? Il numero sotto è di Utah, però, è devastante, ragazzi. Oggi è veramente devastante. Vola nuova. E fallo. Ah, Dio mio. Mitchell. Smith. Stoppata orrenda. Eh, bel canestro. Però dai, siamo ad un buon vantaggio. Il cumendone, cosa appoggia, ragazzi. Veramente, 7 su 8 dal campo, 5 assist. In questo momento, il cumendone sta disputando il migliore primo tempo della carriera, forse. Smith. Beh, non può metterlo così. E invece lo mette così. Incredibile. Incredibile Alde Palace. Bellops. Tire. Vai. E allo scadere dei 24. Ancora veneziano. 8 su 9. Ragazzi, questo non è basket. Questa è fantascienza pura. Palla ai Pistons. Ma che veneziano, ragazzi. Che veneziano. 20 punti nel primo tempo, fioi. E mancano ancora 6 minuti. Quando il veneziano gioca così è un piacere per tutti. Questa può essere veramente la partita della storia dell'Hall of Fame. Una mini-Hall of Fame. Già il primo anno di Rookie, perché ragazzi. Fa una partita così. Uh, brutto errore qua di Goebert. Tanto abbiamo vinto la partita, però questa è la cosa più importante. Infrazione di campo. Grande veneziano. Vai, Kume. Ragione di classe. Williams. Favors. Brutto errore ancora. Fallo del Kumendone. Calma con i falli. Dai, venezianone. Cadua il Pope. Il Pope. Il Pope. Canestro del Pope. Buono. Cominciamo a sbagliare un po' troppo, però adesso non mi va. Attenzione, Cadua il Pope. Mamma, com'è entrato Pope. Com'è entrato Pope. Meno 10. Stanno recuperando da meno 16. Williams. Meno male, meno male, meno male. Bravo Williams. Comunque primo tempo fantascientifico di veneziano. Smith. Villanueva. Villanueva. Fallo di Hauer. Primo libro sbagliato e Godo. Secondo libro buono. Williams. Bill Ops. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Adesso veneziano un po' fuori dal gioco, ma chiaramente lo stanno marcando al massimo. Prestazione da B più per il momento. Bello. Vai Cume. Il Cume non trova più spazio. Prova l'assist. Sesto assist di giornata. Molto bene. Buona difesa sul tiro. Mamma mia che veneziano. Mamma che veneziano Detroit veramente in bambola oggi. Bill Ops. Rimbalzo offensivo come indiano comunque. Buono buono buono. Oh il Cume si riposa. Intervallo. Più 15 aiuta. Scusate. Sicuramente sono io il migliore del primo tempo. È una cosa abbastanza scontata. 74-61. Vai. Favors. Cantor. Vai Kenter Passer che c'è una pippa. Eccola là. Punto. Vai Howard. E adesso lo rete. Assist veneziano. Grande Cume. Attenzione. Siva. Smith. Eccola là da solo. Villanueva ancora. E ancora errore Villanueva. Stai tirando malissimo quest'oggi. Bene bene. Prova il triplone. E anche il triplone. Solo rete. Cume. Veneziano. 23 punti. 7 assist. Un rimbalzo. Tisis Cume. Siamo risvegliando dopo la serie di sconfitte. Una vittoria. Su 5 partite ragazzi. Brutto score. Ragazzi. Siamo a conquistare il posto titolare. Subito il Cume. E subito il Cume. Ancora da 3 ragazzi. Doppia tripla consecutiva ragazzi. Mamma mia. Ottimo. Il Cume c'è. Il Cume c'è. Palle rubate. Siamo primi dei rookie. Mamma mia. Rookie veramente. Rookie of the year. È solo una formalità secondo me ormai. Perché sto veramente giocando una palla a canestro sensazionale. Sensazionale. Uh brutto errore qua. Occhio. E arriva un altro rimbalzo ragazzi. Mamma mia veneziano. Mamma il veneziano. Ecco. Palla persa. Prima palla persa di giornata. 90 dal campo comunque. 90 per cento del campo su 26 punti. Ragazzi. E Utah vedi ottava. 1, 2, 3. Ecco c'è sì. Non ho una forza adesso. Mi ha perso anche una posizione. Cazzo. È visto in velocità. Porca mignottone. Eravamo ottavi comunque prima di questa partita. Voglio arrivare ai playoff con Utah però. Questo è l'obiettivo. Cazzo. Non possiamo abbandonarli adesso anche se siamo straforti. Ci giochiamo al massimo delle nostre possibilità. Possiamo arrivare tranquillamente ai playoff anche se non siamo favoriti. Dobbiamo solo stare tranquilli. E se il Comenda va a titolare la possibilità di vittoria sono infinite. Parabà, 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 parabèro. Parabà. È marcato veramente al massimo. È il Comendone adesso però. Meno male che sbaglia tanto Detroit. Da solo rush. E triplone. Mastodontico. Mostruoso. Indefinito. Incalcolabile. Grandi ragazzi. Sarebbe bello andare anche al primo anno all'All-Star Game. Uh, bella. Detroit però ancora ci crede. Attenzione. Mamma mia, per poco arrivava il nono assist di giornata. Peccato. Ancora stoppata. Grandissimo Jefferson. Mi prendeva in giro all'inizio stagione. Adesso invece deve stare in silenzio. Sono io il leader di questa squadra. Perché questi errori, Comendone fa fallo. Per evitare il contropiede. Primo libero sbagliato è Godo. Secondo libero a segno. 7-1 Detroit. 8-5 aiuta. Come è marcato Veneziano ragazzi. Come è marcato Veneziano. Attenzione. Attenzione. Ah, brutto errore questo. Jennings. Vai, Kummer. Rush. Fallo, mamma mia che brutto fallo. Il veneziano rischia l'infortunio. Ormai anche il terzo o quarto è andato. Troppo importante vincere questa partita ragazzi. Dopo la serie negativa. Kent, Kent, Kentter. Ancora, Kentter, basta, Kentter, basta. E non esistere più, Kentter. Mamma mia. Vendiamolo sto deficiente. Grande, Kummer, buona difesa, cazzo. E dopo arriva il canestro però. Calma, meno 10. Meno 10 di Troite. Rimontata. Il Kummer da un po' che non se ne dopo le due triplone. Bravissimo, bravissimo. Appena detto il Kummer non ne smentisce tutti. Unici su 13 dal campo e 84%. Mamma mia che prestazione. Bello. Qua di Troite fa una bella azione. Burke. Vai Veneziano. Dai Burke, dai vecchio, dai. Kentter. E la mette. Grandissimo Kentter. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Da solo il Kummer. E solo Rete. 30 punti. 8 assist. 2 rimbalzi. Mamma mia, raga. Bello. Questa triplona molto, molto interessante. Uh, per poco ne va anche questo. 9-1 Utah. 8-0 Detroit. Manca ancora un quarto. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene. Tarararata. Parapapapam. Dattenare fa. Dattenare fa. Vai ragazzi. Andiamo a chiudere questa partita. 101-88. Mancano 7 minuti. Dai ragazzi, apri chi ha la palla a Kentter, Fioi, dai. Kentter, passa quella palla. Meno male. Vai, Carter. Carter. Brutto errore di Carter, va rimbalzo di Favors. E dopo arriva... No, non è triplona. Scusate, ragazzi. Burks. Da 3-Smith. Nooo, invece sì. Non è ancora finita questa partita, purtroppo. Vai. Bravissimo. Dai. Niente da fare. Però buon fallo, buon fallo. Anche poi l'assolutamente vincita partita, ragazzi. Ne ho perse troppe. Sono fuori dai play-off. Incredibile. Ero secondo e terzo nella conference. Dopo un crollo fino al mese. In queste ultime due settimane. Un crollo vertiginoso per Utah. Però anche un miglioramento incredibile di Veneziano. Eccolo là. Vai, comendone. Il comendone è da solo. Non c'è difesa. Non c'è difesa per Detroit. Burks. Aia. Fallo di Kent al secondo. Secondo libero. assegna. Però il vantaggio è buono. E ancora Detroit lascia da solo Veneziano. Cioè ragazzi, Detroit non c'è più in difesa. Detroit non c'è più in difesa. Andiamo a 34 punti. Siamo vicini alla quota 40. Sono già arrivato una volta a quota 40. E' l'unica capitale che sono riuscito a vincere in questo periodo. Triplone di Veneziano. Ah, brutto questo. Mattone. Mattone per Veneziano. Dai, fiovi, dai. Guardate ciò che non capisco. Il comendone è un gioco infortunato. Quindi sono rotto oppure è buono? Non scopo bocchettino questa roba. Certe volte me lo scrive. Occhio, Villanueva. Non ne ha messa una oggi. Attenzione, Villanueva ancora. E adesso la metto. Vai ragazzi, vai ragazzi. Canter. Guarda, dai. Fallo. Dalla linea della carità. Grande Veneziano. Ancora un libero a segno. Mamma mia. Cecchino Veneziano. Molto bene. 36 punti. Siamo vicinissimi ai 40. Smith. Smith, bellissimo lavoro di Smith. Due punti bellissimi di Detroit. Canter. E Veneziano. Ma che lavoro, ragazzi. Ma che storia. Siva. Bel numero qua. Villanueva. Stoppata Veneziana. Mamma mia. Che stoppata. Bello. Che partita di Veneziano però. Che partita di Veneziano. Ecco, appena detto. Persa palla. Terza palla persa. Intanto il comandone purtroppo fa sti errori. Ed è ancora stoppata. Però terza stoppata di un playmaker. Alto. Ma comunque insomma non alto. Come i giocatori. Come i giocatori più alti e più forti dell'NBA. sono il comandone a provocare un canestro. Impossibile. E sono 40. E sono 40. Manca solo la double double. Mamma mia ragazzi. Oggi come non la P22 con San Antonio. Quindi partita bella ma non devastante. Arriva una partita mastodontica. Carter. Palla e Pisto. Sdormita generale. Dormita. Questa partita è dedicata a Tori ragazzi. Questa partita è dedicata a Tori. Mamma mia che roba. Mamma mia che lavoro Veneziano. Ed è ancora stoppata. La quarta ragazzi. La quarta stoppata di giornata. Eh no. Con Detroit proprio dominata. La partita della vita classica. La proprio classicissima partita della vita. Dai che ormai ci siamo. 2.48. Ormai è finita ragazzi. Ormai è finita. No sti errori però. No sti errori. Tutto riaperto. Dai Veneziano. Veneziano. Si butta. Voleva fare il super assist. Carter. Sì. Di culo. Per questa prestazione penso che le possibilità di giocare titolare sono veramente tante. la prima eh. La prima titolare che manca. Villanueva altro errore del Villa. Mamma che rischio. ottiene il fallo. Oh che colestro. Ma cosa fa? Ma è indescrivibile sto cube. È indescrivibile sto cube. Arriva l'errore da Liberi. Peccato. Ma cosa ha fatto il cube ragazzi? Mi arriva anche il rimbalzo raga. Mamma. No fioi. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Don not parole in inglese puro. È inglese sempre più puro per il veneziano. Peccato per la double double che probabilmente non arriverà. Manca un minuto ragazzi. Da tre. Altro errore di Detroit. Che ho giocato veramente male Detroit. Anche se comunque 104 punti me li ha cazzati. Ah ta ta taaa. Dai passa. Dai muovite. Dall'angolo più più incredibile. Ancora lui. Ancora veneziano. Spettacolare come raga. Mamma mia che partita. Penso che sarei ripetibile una partita così. Smith da solo. Altro errore di Detroit non c'è più comunque. Ancora il come. E ancora il come. Basta. Come basta. Detroit è in piedi ad applaudire il veneziano ragazzi. 46 punti. Record in carriera da come rookie ragazzi. Fare un 46 punti in una partita. Che si ritroi sicuramente non è un squadrone. Insomma non ho anche visto la classifica. Vari anche prima. Nella conference ne dubito. Fuori palla ai pistons. Ed è finita ragazzi. 123 a 106 dominio per i Utah Jazz. Miglior prestazione in carriera per il cumendone veneziano. Raga un saluto al cumendone veneziano. Ciao. Cumenda veneziano. Cumenda veneziano. Cumenda veneziano. Lo youtubers italiano. Cumenda veneziano. Cumenda veneziano. Cumenda veneziano. Lo youtubers italiano.